Occupati! Ancora solo qualche secondo! Ripararsi! Abbiamo un contatto! Reapers! Avanti! Sorpresa! Volati! Incorriamo! Ah! Vado queste gazzone! Vieni di gazzone! Di destra! Da giù! Un chino da parte a te! Oversil! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Può camminare, ma sentirà male. Vuoi della morfina? No, voglio rimanere lucido. Ok, sta fermo. Ho quasi fatto. A che pensi, Walker? Che siamo finiti nel mezzo di una zona di guerra. Incredibile, considerando che la città dovrebbe essere disabitata. Infatti. Forse è ora di andarsene. Di chiamare l'evacuazione. Ci sono 12 chilometri di deserto tra noi e la tempesta. L'elicotteri ci falcierebbero subito. L'unica è di ricongiungerci a Gould. Sicuro di volertela giocare assieme alla CIA? Per forza. Hai visto il trentatresimo. Ha ragione. I dannati sono senza controllo. Bisogna fermarli. Lo so. Ma possiamo fidarci? Gould ha rischiato la vita per noi. Mi fido di lui. E' Conrad? Non si tratta più solo di trovare Conrad. Bisogna fare la cosa giusta. Su, Adams. Fai gli onori. Come vuoi tu. Capitano Volker. Se mi ricevi, rispondi. Passo. Ricevuto. Passo. Oh. Demevo di avervi persi. Prima. Siamo ridotti un po' a male. Ma sopravvivremo. Bene. Perché ci serve tutto l'aiuto possibile. Che succede, agente? Fulia, capitano. Cercavamo sopravvissuti per la CIA. Invece abbiamo trovato Dubai devastata. Segni di Conrad in tutto ciò? No. Nessuno. Non che io sappia. C'erano bugi che sia ancora vivo. Ma se è vero, si nasconde da qualche parte. Merda. Elicottero in arrivo. Occhio! Lugo, richiamalo alla radio. Non posso. Niente segnale. Occhio! Sembra andare bene. Che problema hai con lui, Adams? Senti, il trentatresimo va tremando. Ma la rivoluzione di Gould non sta peggiorando le cose. Ehi, ci ha salvato il culo prima. Ed è tutto quello che abbiamo ora. Ehi, con me. Credo di aver trovato un'uscita. vuoi due, indietro. Dietro di me, muoviamoci. Qualche segno di Gould? Sì. trentatresimo, la struttura. Avete visto dove è andato Gould? Non vedo niente con questo fumo. Vediamo, potrebbe essere ferito. Notizia fresca! Il turismo è salito del 3000% grazie a una nuova ondata di americani che hanno scelto Dubai per le vacanze. Quando gli hanno chiesto cosa pensasse di queste nuove vacanze un uomo di Dubai ha risposto. Guardate un po', segni della rivoluzione. Stronzate, ecco cosa. Dubai sta morendo e tutti cercano di darle una mano. Almeno i corvi non rimarranno a digiuno. Cosa diavolo? È mimetica. Significa che è del trentatresimo. Pensi sia stata la CIA? Impossibile, sta marciando da troppo tempo. Oh mio Dio. Chi farebbe una cosa simile? Non è una cosa a cui voglio pensare al momento. Attenzione, soldati, a ore dodici. Ci hanno visto? Non ancora. È messa male. Di sicuro non è messa bene. Riesci almeno a farla partire. Rascinarla in ufficina sarà una rottura. Senti, sono un meccanico, non faccio di rapa. Cazzo. Sai cosa posso fare? Prendi la fiamma ossidrica, la smonto sul posto. Ne vale la pena? No, sì. Qui c'è abbastanza coranza per rinforzare. Merda, ci sono delle vincate! Suono! Su! E vietta giù! Rincarico! Versaglio neutralizzato! Un champagne! Passaggio specifici! Screw us! Passaggio in acquienza! Passaggio in acqua! Caio un po' Passaggio in acqua! Grazie a tutti.